beh ragazzi è arrivato anche per noi l'atteso giorno il triste giorno l'addio ce ne andiamo chiudiamo qua sarà clickbait assolutamente sì andiamo in vacanza vero? questi hanno letto chiudiamo il negozio sul tifano secondo me hanno strippato sai quanti colleghi torno? oh chiudo, chiudo, chiudo no dai sta fattando no sta la mia vacanza andiamo in vacanza ragazzi due settimane a partire da oggi che vedete questo video fino a... da oggi che vedete questo video non è italiano senti, fa il favore rispondi al telefono ma vado in là che... dai fastidio pronti si fixa? stiamo in ferie finalmente per due settimane quindi torneremo a lavorare non domenica prossima ma bensì che si dice ma non si dice si può dire perché ormai l'ho sdoganato io la domenica quella successiva che sarà il 25 di agosto noi torneremo a lavorare il 26 perché il 25 l'ultima stiracchiatina sta ancora a ferie si 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 il 25 se io sto... ma dai tempo di chiudere le valigie metto a posto ma quale me ne chiude io sto a fare lavatrici basta lunedì te li torno a lavorare quindi il 26 apriamo il negozio vai spiegati questo ma allora che ne frega il tuo questo? niente stanno dicendo che andiamo in ferie che quindi purtroppo ci sarà qualche contenuto in meno però abbiamo deciso che vi abbandoniamo totalmente il negozio sarà chiuso con esso il canale con esso instagram con esso twitch dovete schiantare tutti non ci crederanno mai abbiamo registrato negli ultimi giorni dei video non di qualità però sono comunque dei video cioè così non di qualità abbiamo registrato negli ultimi giorni parecchio materiale negli ultimi giorni parecchio tutti i video che vedrete usciranno stiamo tutti sempre qua infatti vedete sempre quello sullo sfondo quello sullo sfondo che usiamo per scenografia all'ultimo noi ci dovete fare cosa all'ultimo comunque vi abbiamo assicurato un afflusso costante di contenuti ovviamente non sarà la stessa quantità di contenuti che avete porca e dai pronto si fixa avrete almeno un video a settimana almeno vabbè vabbè almeno quello che variva vi prendete tipo fastweb banda minimo garantita si esatto paghi da 100 mega poi te ne arrivano 4 dissi dissi minimo garantita è un mega esatto quindi ci avrete un video a settimana garantito qualsiasi cosa arriva in più è tutto buono tutto buono tutto buono le live su twitch sono purtroppo stoppate perché non ci siamo contiamo invece compatibilmente ai nostri impegni in vacanze che saranno grandi di far uscire magari qualche foto su instagram perché io e stiamo facciamo le vacanze diciamo separati però qualche giorno ci incrociamo quindi ci può essere del rischio che voi abbiate qualche foto extra su instagram ovviamente se non siete follo su instagram la foto follate giusto quindi follate cercheremo comunque sia su twitch di mandare in onda qualche replica visto che lì c'è questa possibilità vediamo se riusciamo a organizzarla insomma o comunque sia programmarla per ogni tanto comunque essere presenti lì bene ragazzi detto questo vi auguriamo buon riposo gli abbiamo mantenuto la promessa del nostro starter pack in agosto esce o no? in agosto esce in agosto esce in agosto stai sicuro? ma non mi registra adesso niente? eh mo chiudiamo e registra non uscirà test bench questo lo posso assicurare non sei le parole eh non sei le parole purtroppo ci hanno assalito questi nuovi ryzen non ci hanno dato tre queste ultime due settimane quindi chiudiamo questo video per augurarvi buone vacanze buon riposo tante buone cose mangiate abbastanza quindi non uscite le ore calde bevete tanta acqua vi raccomando il cocomero eh perché fresco sono zuccheri quindi mi raccomando eh troppi zuccheri è andata al mare la protezione alta che i raggiù vi fanno male ci troviamo comunque sia con la live subito a fine l'ultimo venerdì del mese sostanzialmente che noi torniamo il 26 ma al venerdì subito spariamo la live per chi si fosse perso l'ultima live vi lascio comunque il link in descrizione perché è stata una bella live con un Antec Tor che ha un pc insomma da 3-4 mila euro abbondanti la betta seria quella che non si vede sempre specialmente non ad agosto quindi andate a vedere se ve la siete persa esatto ragazzi ciao a tutti buone vacanze ci ritroviamo non appena torniamo mi raccomando restate sintonizzati ciao 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 Grazie a tutti.